E' tutto pronto a Mascali per l'attivazione dei cantieri di servizio per i quali il Comune Ionico ha ottenuto dalla Regione un finanziamento pari a poco più di 134 mila euro. Una cifra superiore a quella messa in preventivo che ha permesso così la riproposizione del piano di lavoro denominato Ambiente e Tutela del Verde Pubblico, grazie al quale oltre ai 20 soggetti già ammessi ne saranno impiegati ulteriori 14 selezionati scorrendo la gradatoria. Complessivamente quindi saranno 34 le persone che si occuperanno in collaborazione con gli operai dell'Ufficio Tecnico Comunale della manutenzione delle aree a verde, dello scerbamento delle vie ma anche della cura, della pulizia e della custodia in generale dei cimiteri di Mascali e delle frazioni. Altri 20 soggetti invece saranno impiegati nel piano di lavoro denominato Salvaguardi e Valorizzazione del Patrimonio Pubblico e nello specifico presteranno servizio nella manutenzione degli edifici pubblici degli impianti della rete idrica, di quelli sportivi e più in generale dell'arredo urbano. Gli unici costi a carico del Comune, 1800 euro, serviranno per l'acquisto delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste, la cui gestione è affidata all'Ufficio Cantieri di Servizio, costituito appositamente.